si vede chiaramente sulla sinistra questa sagoma chiara era una finestra aperta con un cielo di colore azzurro come si vede bene nell'osservazione al microscopio sul lato della diapositiva e quindi con un'impostazione simile a quella che ritroviamo nella Madonna Lia del Castello Sforzesco di Milano questa finestra è stata chiusa per dare spazio ad un ambiente in cui inserire un dettaglio che è poco evidente e solo abbozzato nel nostro dipinto ma che invece è estremamente ben delineato e definito nella Madonna con Bambino San Rocco e San Sebastiano conservata alla Kunsthaus di Zurico si tratta di un candelabro con una candela spenta e quindi un'ulteriore allusione alla futura morte di Gesù grazie grazie grazie